Un giorno Gesù ti disse, vieni e seguimi, non temere. Quel giorno il demonio ha giurato su se stesso che ti impedirà di andare in cielo. Il mondo e la tua natura umana sono gli strumenti del demonio di tenere sempre acceso il tuo orgoglio, la vanità, l'invidia, la gelosia e tutte le altre fragilità che non puoi eliminare. Tu puoi resistere alle tentazioni soltanto se sei fedele alla parola di Dio e assiduo nella preghiera. La resistenza alle tentazioni non consiste soltanto nel non cadere, ma anche a chiedere allo Spirito Santo la forza di rialzarti sempre. Grazie a tutti.